Melia Hotel International è attivi d'Italia su più fronti a livello di Corporate Social Responsibility uno dei più importanti progetti in corso è la partecipazione a Evaluable progetto partito al Melia di Milano con l'assunzione a tempo indeterminato di un ragazzo con sindrome di Down nel 2017 che è stato selezionato e formato per la gestione del servizio di Mensa mentre nel 2018 sono state previste due sessioni di stage di tre settimane l'una per un totale di quattro persone durante l'arco dell'anno provenienti sia dal Portogallo che dalla Bulgaria i futuri alberghi e ristoranti che vorranno accedere al circuito Evaluable avranno il vantaggio di essere identificate come strutture ricettive attento all'inclusione sociale delle persone disabili con il vantaggio di comunicare un senso di responsabilità sia internamente che esternamente l'impatto con i dipendenti delle strutture con l'ambiente di lavoro è estremamente positivo i ragazzi da AUN tendono a seminare uno spirito di ottimismo e passione che contribuisce a migliorare il clima professionale questo concetto è anche percepibile dal punto di vista dei clienti che frequentano le strutture che tendono ad appoggiare e collaborare con questo tipo di iniziative creando un circuito di passaparola che ha un forte messaggio sociale grazie 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 grazie